sei in un filo elettrico.f attraverso francesca r giugno 2023 a cura di vb domanda perché hai risposto adesso in trance ad una domanda che avevo fatto in macchina allo strumento michelle perché prima della riunione noi siamo presenti e siamo accostati allo strumento questo vi deve essere chiaro quindi percepiamo e ascoltiamo volevate sapere da dove venivo chi ero il ciclo delle vite se le avevo terminate no il ciclo delle vite non l'ho mai affrontato uso una specie di robot astrale per parlarvi perché quello che può essere per definizione michelle che si manifesta ovunque è sempre uno ecco perché è più facile capire cosa vi può essere detto e cosa non vi può essere detto o può essere ampliato determinati spazi di verità vi vengono tradotti a seconda della vostra capacità vibratoria nel momento che percepite è un momento di incontro per migliorare o mutare l'espressione verbale del nostro robot astrale altrimenti mi sarebbe impossibile manifestarmi se non attraverso una voce diretta è impossibile passare direttamente attraverso un qualunque strumento esistente domanda è impossibile per voi per te michelle per lo strumento per la capacità vibratoria dello strumento se in un filo elettrico emettete troppa elettricità che cosa succede domanda ecco se mi posso inserire anche presso il cerchio k hanno parlato di robot astrale e presso il cerchio naf dissero che l'entità naf appunto se si fosse manifestata per più di cinque minuti avrebbe bruciato ucciso lo strumento è vero michelle esatto troppo potente l'incontro diretto può essere soltanto a livello spirituale non nel piano fisico a fronte di un grande potenziale energetico e di particolari condizioni è possibile per noi entrare nel piano fisico senza creare danni solo attraverso la voce diretta altrimenti per tradurre correttamente il nostro pensiero con tutte le accortezze riservate riservabili allo strumento e a ciascuno dei presenti è possibile utilizzare dei robot astrali che altro non sono che dei gusci di entità cerco di spiegarvelo quando il ciclo delle vite delle rinascite termina rimane un deposito di materia astrale noi riplasmiamo questa materia astrale perché tutto è utile nulla si spreca nel ciclo evolutivo e la utilizziamo proprio come un veicolo per arrivare facilmente dove dobbiamo arrivare senza violentare nello strumento nei presenti questo è fondamentale